Vai! Leggitelo! 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 Dobbiamo ricalcare questo! No! Vado a prendere il pennello sottile! Beh, fate qualcosa! Ah! 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 Ma quanto hai in italiano? Il Lilas è un certo, il Lilas perché no, inanzitutto è venuto da un libro in Egitto, poi in Lilas è un certo perché ci avremmo ricordato che l'ultimo film che hanno fatto è stato tipo... È un dito! Perché se stiveste poi con la camera per perdere due! Il motto l'avete studiato? Sì, gli ultimi saranno, non sempre perché non saranno sei mai.